Il tradizionale suono della sirena dei vigili del fuoco a segnare simbolicamente l'inizio della festa patronale a Brindisi, anche in quest'anomalo anno condizionato dal covid che è costretto ad eliminare quasi tutti gli aspetti esteriori dei festeggiamenti. Non ci sono le bancarelle, non c'è la musica dell'illuminare, non c'è la classica processione del venerdì che anticipava l'appuntamento della processione a mare il giorno seguente. Restano però alcuni simboli di questi giorni, come la presenza del Tosello al centro dei tre corsi con le statue dei due santi. Il sindaco Riccardo Rossi insieme al vice sindaco Tiziana Brigante hanno comunque voluto mantenere in forma riservata, accompagnati da Don Mimmo Roma, parroco della cattedrale, il tradizionale omaggio floreale ai due santi patroni. I santi patrono, Sant'Iodoro, San Lorenzo vanno comunque omaggiati e quindi noi abbiamo ritenuto che anche se quest'anno la festa patronale vivrà essenzialmente, esclusivamente delle manifestazioni, delle solennità religiose, non ci sarà la classica festa con le festività anche civili, però vanno mantenuti alcuni punti fermi. Uno è questo, il Tosello qui all'incrocio dei corsi con la presenza ovviamente delle statue di Sant'Iodoro e San Lorenzo, l'omaggio religioso dei floreali e poi questo anche piccolo percorso luminoso che adesso abbiamo acceso che ci accompagna da qui fino a Piazza Duomo dove avverranno sostanzialmente le principali funzioni religiose e l'antificale preceduto da Sua Eccellenza l'Arcivescovo Caliandro. Quindi speriamo che quanto prima possa terminare questa emergenza e che quindi l'anno prossimo si possa tornare alla normale festività religiosa. Comunque, ripeto, la devozione e il sentimento religioso è tale tanto che quest'anno comunque va sempre salvaguardata la festa patronale, anche se in misura appunto ridotta.